Dopo la grande battuta d'arresto dello scorso anno che ci ha visti praticamente fermi, è stato un anno difficile, si prova a ripartire con le nuove regole, nuove metodologie, però lo sport speriamo possa essere di nuovo protagonista nelle vite delle persone. Lo facciamo attraverso la riattivazione dei campionati che già organizzavamo anche gli altri anni, quindi principalmente il calcio, il biliardo, le attività del ciclismo, ma facciamo anche, quest'anno una novità, il campionato di basket. Ci saranno delle iniziative con l'atletica leggera nel prossimo anno e anche della palla a volo, quindi diciamo che la parte campionati ci vede anche essere ottimisti, viste anche le iscrizioni che abbiamo ricevuto e ne siamo molto contenti. Certo, non sarà come sempre, non sarà come se non fosse successo nulla, ci saranno regole, distanze, ma speriamo che nel rispetto di tutte le forme di igiene, di sicurezza e di distanza si possa comunque continuare a giocare e a divertirsi. Facciamo anche tanti corsi, tanti corsi individuali per bambini, adulti, anziani e partecipiamo a questo progetto nazionale del Let's Move, si chiama, di riattivazione e attraverso questo riusciamo anche a fare delle promozioni e avere degli incentivi. Uno di questi, e ci è sembrato forse quello più scontato, essendo in ottobre quello ottobrerosa, partecipare in qualche modo nella nostra piccola parte ad ottobrerosa, con la partecipazione delle soci e di Astro, la possibilità di avere ottobre, novembre e dicembre gratuite ai nostri corsi. Già abbiamo una convenzione con Astro, tutto l'anno le soci hanno un piccolo sconto mensile, per le nuove soci o per quelle che abbiamo già la possibilità di farlo gratuitamente per riattivarsi, perché è importante lo sport. La collaborazione con UISP risale già da diversi anni e non solo per l'ottobrerosa, ma anche per la vita continuativa delle due associazioni. Astro si occupa di riabilitazione di donne operate al seno a tutto tondo, nelle varie modi che decidano i fisiatri, sia in piscina, sia in canoa. Ma ecco, con l'UISP praticamente la collaborazione è nel fatto che anche loro ci danno una mano nell'accogliere le nostre soci e le nostre donne che hanno bisogno di socializzare e di fare anche un po' di ginnastica particolare per le loro patologie. Abbiamo per le nostre soci uno sconto particolare, ma non è questo, è la collaborazione tra Astro e l'UISP che fa sì che da queste sinergie ne venga fuori qualcosa di importante per la popolazione. La prima volta è ora che usciamo dal guscio imposto dalla pandemia del Covid e mi piacerebbe con l'UISP che ci dava una grandissima mano a poter riallacciare il discorso della nostra corsa, la via Arrose per il collocamento di queste magliette da cui affluivano tante risorse per mettere a disposizione dei nostri servizi. Avremmo in mente di donare un nuovo apparecchio medico all'ospedale e poter riprendere il discorso della via Arrose e con l'aiuto della vendita delle offerte per queste magliette potete vedere di fare qualche cosa di importante.